la musica per il tuo matrimonio in era cov 19 è diventata la prima cosa da scegliere ti sembra impossibile vero? è normale perché nessuno lì fuori ti dice quanto soprattutto ora la musica può influenzare tutte le scelte del tuo matrimonio clicca sul primo link in descrizione e scarica subito il video esclusivo gratuito che ho preparato per te dove scoprirai i quattro motivi fondamentali per cui dovresti iniziare adesso l'organizzazione del tuo matrimonio partendo proprio dalla scelta della musica ciao e ti aspetto dall'altra parte